Portiamo tutte le caramelle via, facciamo i bravi, i buoni e speriamo che questo anno sia migliore del prossimo. Il carbone lo teniamo lì in riserva, proprio per il cartellino ultimo, va bene? Tanti auguri a tutti! No, nessuno, nessuno! Solo caramelle, solo caramelle, siamo buoni! Il carbone a tutti i nostri politici, senza ombra di dubbio. E le caramelle? Ha tante persone buone che fanno del bene, che fanno... Ma io il carbone ai politici, a tutti, nessuno è escluso, a tutti. Perché? Come perché? Le sembra che l'Italia sia governata bene o con onestà o con serietà. Un parlamentare guadagna 37 mila, prende 37 mila euro al mese, se noi mettiamo i suoi compensi, i rimborsi per i portaborse, i rimborsi spese. A chi porterebbe le caramelle? Al mio amico Piero gli darei le caramelle. Grazie, grazie. Al mio amico Pelo gli porterei il carbone perché piace troppo alle donne, per cui sono molto geloso. E a chi porterebbe il carbone e a chi le caramelle? Io al bambino Pelo, perché è il numero uno di quelli della nostra compagnia, che ancora non è sposato, ancora è signorino. Sono il Gio Allegro di Arezzo. E a chi le porterebbe? Io le terrei per me, scusate, la pazienza. Il carbone, siccome io so... A Renzi lo porteremo a Renzi. No, lì veramente, lì tutta la miniera gli si dà.